La prima domanda che tutti noi ci siamo fatti, la prima risposta che io vi devo dare è chi erano? Si è detto che era un altro dirigente degli scout italiani, pochi hanno ricordato che era un magistrato, era un giudice di pace, un magistrato onorario, quindi certificato come tale del Consiglio Superamministratore. La sua biografia politica è più o meno nota quando si è avvicinato alla mia attività, diciamo alle attività del sindaco Frutei che all'epoca era militante di una sezione di talenti del PDS, credo che questa sia la matrice politica e culturale della sua cifra, insomma della sua precedente famiglia. Un uomo che si è manifestato servire a cigno, severo, antipatico per conquistare una fiducia che è diventata una fiducia assoluta e agli occhi di tutti i meritati. Mai un debito, ricordava il tesoriere, mai un euro di debito, la ragherita dovrà finire la sua vita in attivo, mi dimetto se voi dubitate della sua capacità, quante volte l'ha detto? Chi vuole che non ne vada è perché vuole spendere facili. L'arcigno tesoriere dunque si è costruito su questo pedigree che tutto sommato è stato abbastanza discerato, analizzato, si è costruito la capacità per gestire con la fiducia direi generale, di tutto il partito, le risorse, con un meccanismo formale che, scusate se mi sembra pedagogico, ma debba essere, almeno alla fase iniziale, poi andiamo tutti gli argomenti nel merito, analiticamente, di cui vorreste. Com'è possibile che nessuno si sia accorto di fulti tanto grandi, tanto sfruttati? Diciamo, a un certo punto, quando si è vista l'ordine di grandezza dei suoi fulti, delle sue appropriazioni indebite, inizialmente accertate dalla Finanza e dalla Procura della Repubblica di Rosna, 12,9 milioni di euro, la gente ha detto accidenti, la Magherita ci aveva in cassa 20 milioni, non si è accorto che ne pregavano 13 milioni, e poi ci siamo accorti che, ma le prime analisi erano 600 milioni in più, 13,5, le analisi interi, fatte dalle stesse territori della Magherita, che hanno capito il meccanismo attraverso i tuoi che erano stati ingannati, e poi gli ulteriori accertamenti che ha fatto la Magistratura perché ha ottenuto da noi tutte le cariche, tutte, tutti i destrati politici, tutti i politici, l'intero libro, giornale, come si chiama, con tutte le entrate e uscite dal partito, nessun partito politico nella storia della Repubblica italiana ha consegnato agli uffici giudiziali tutta la propria documentazione di un'altra, tutta. Ricorderete che la Lega arrivò sino alla Corte Costituzionale per impedire che vinse, che alcuni documenti contenuti all'azienda delle cartellette potessero essere acquisiti dall'impianto. Dopo 24 ore che la Magherita è stata richiesta di dare informazioni per collaborare con gli inquirenti, tutto è ciò di cui stiamo per parlare, ciò di cui voi mi chiederete, tutto è in possesso dei PM dalle 12 ore, diciamo così, successive a quando ce l'hanno richiesto. Mi sono recato alla Procurazione di Roma, ho incontrato il Procuratore Capo, cioè anche funzionale del Corcavallo, e in una molto positiva incontro con il dottor Caterma, che insieme al dottor Pesci conduce le indagini, ho consegnato, un esposto, denuncia estremamente articolato, volto a documentare come questa attività criminale, che è stata fatta segretamente con una dissimulazione formidabile da parte dei russi, stia continuando oggi con il tentativo di intimidazione, con il tentativo di minaccia, con il tentativo di creare un inquinamento e un depistaggio, che già i magistrati hanno identificato con chiarezza, poiché nell'ordinanza e il sequestro, secondo il sequestro dei beni dell'Usi, hanno proprio individuato questa dinamica, del tentativo di profondare l'acqua, del tentativo di spaventare l'interno dottore. E ora vedremo chi e perché e come e semmai dovrebbe avere motivo di essere spaventati, che completa la strategia criminale, l'attualizza dell'Usi, ovvero prima si costruisce le immagini, poi realizza un meccanismo apparentemente molto efficiente per distrarre, parliamo di decine di milioni di euro, perché saranno sicuramente più diretti, e poi tenta di illuminare un'indagine che sta andando dritta allo scopo e dal primo giorno ha identificato la responsabilità, lasciando il tentativo di quello che poi è stato riassunto da alcuni titoli di giornale, ma se io ho preso 20 milioni di euro, dove sono andati gli altri certi anni? E' anche questo, sono qui oggi per cercare di rispondere. Il bilancio consolidato della Magherita va a 320 milioni di euro circa, al quale vanno aggiunti, ovviamente non possiamo farlo, i gruppi regionali che sono importanti, il gruppo parlamentare europeo e tutte le realtà dei gruppi consigliari in giro per l'Italia. Certamente anche questo fa varie decine di milioni di euro. Quindi se posso dare un quadro complessivo, io direi che il complesso, il movimento economico determinato in questi dieci anni di Dalia Magherita è tra i 300 e i 350 milioni di euro, tra i 320 e i 350 milioni di euro. Di questi, come ho detto, sei sonda per l'associazione, fondazioni e attività di fondazione politica. Io penso che in questo scenario, forse se qualcuno si alza e dice che è un bel, ha dato tre, ma quanto è? Perché rispetto a 330 milioni di euro, circa 6 milioni sono andati all'attività associativa. Di questi, non la cifra è riportata da l'Espresso, ma una cifra superiore a 3, 1.126.000 sono andati alla fondazione 100 per lo futuro sostenibile. Io mi sono particolarmente occupato, come forse avete visto, come forse avete saputo, presso il tesoriere anche di altre due importanti iniziative che credo siano altrettanto meritorie, ovvero sia il centro, la scuola di formazione politica guidata da Massimo Cacciari a Milano e l'istituto nazionale per la storia e il movimento di liberazione preseduto da Oscar Lugispo. Queste sono, diciamo, CFP di Cacciari, il centro pubblico sostenibile e la scuola, l'istituto, preseduto da Presidente Scalto, sono state cose di cui ovviamente sono orgoglioso di aver contribuito a dare un centro per un futuro sostenibile. Come sapete è un centro di partisa, anzi tripartisa. Nei giorni scorsi aveva aderito anche Franco Martini, già ministro degli esteri, aveva aderito Piero Fassino, ora è diventato sindaco di Torino, esponente un po' di tutte le forze politiche. che è un'iniziativa ambientale di grande dignità e di grande significato, la quale sono legato perché non come fondazione, ma come associazione l'ho costituita, l'ho costruita nel 1989, è diventata fondazione nel 2009. È qualcosa che è servito a traghettare dei soldi altrove, perché poi ecco l'altra grande domanda. L'altra grande domanda è, ma in realtà è stato costituito un fondo? E' una questa, l'altra, l'altra ancora, che in realtà sembra una quale dire? Allora, io vi prego di capire una cosa. Non possiamo, diciamo così, considerare i soggetti giuridici come se fossimo in una, come posso dire, in una aula di tribunale, quando abbiamo a che fare con la politica, quando abbiamo a che fare con le iniziative di tipo sociale e in questo caso ambientale, per esempio il Centro Futuro Sostenibile nasce come associazione e poi diventa una fondazione, inizia la sua attività con una donazione che viene fatta da miei sostenitori al termine della campagna elettorale sin dal 2011. Quindi alla fine del 2008 c'è una disponibilità residua di 288 mila euro, lo dico esattamente, 284 mila euro, che deriva dai sostenitori a Rutelli, che dicono a Rutelli sono risorse politiche con destinazione politica. Non era ancora nata l'Alleanza dell'Italia e quindi questa prima dotazione, non avendo io ancora il Partito Democratico, che viene dai miei sostenitori, io la destino ad un'attività che non è politica, che non è partitica, che non è partisan, che è legata a tanti tecnici, scienziati, economisti e politici di tutti i partiti e nel bilancio, quindi la parte contabile, allora voglio dirvi due cose importanti sul Centro Futuro Sostenibile, nel bilancio che sarà pubblicato a adesso, cos'è, aprile, quando si amministratore di pubblicare tutto, anche i bilanci precedenti e saranno messi online sul sito, così sarà chiaro quello che è entrato, dove è andato e c'è. La parte che riguarda apri è una parte soltanto, come posso dirvi, diciamo di contabile, la problematica di apri che qualcuno ha riscontrato, c'erano 100 città, il saldo che risulterà di bilancio e che è la verità assoluta di ciò che è entrato per quella destinazione politica che vi ho detto, che è stata inizialmente e poi via via è andata ad Alleanza per l'Italia, pari a 284 mila euro, tutti questi danari risultano nel bilancio di Alleanza per l'Italia, non hanno nulla a fare con il 100 mila euro, nulla. Sarà pubblicato il bilancio, potrete vedere fino all'ultima lina, io già ce l'ho per la verità, però è giusto che venga, anzi per la verità, sono entrati al fondo di dotazione 284 mila e quello che è stato poi invece attribuito alla mia attività politica, come i sostenitori gerutelli volevano, chiaro? È stato di 282 mila, 333,41 euro, quindi c'è ancora 1600 euro.